Nel scorsi che troviamo in luoghi abbandonati abbiamo trovato questa fontana, questa fontana che fa parte della triade delle fontane e delle leggende che abbiamo trovato qua in Valle del Chiese. Dopo la fonte smagnosa di Bersone, l'acqua dell'amore di Malga Caina, abbiamo trovato l'ultima e la più magra, l'acqua della morte. L'acqua della morte è stata definita così per due motivi, la prima legata alla grande guerra, infatti qua c'era una fonte e questa fonte era esattamente appena appena fuori dalle prime linee italiane, era nella terra di nessuno praticamente, qua nel comune allora di Cimego, adesso di Borgo Chiesa e questa fonte praticamente dovevi uscire dalla prima linea quando facevi ricognizione venire qua e prendere quest'acqua e da allora e molte volte si incontravano le pattuglie di soldati austriaci o nemici che praticamente venivano qua ed era e qui scattava la battaglia. Qui davanti dove c'ero io esattamente c'era proprio la fila di reticolati qua degli italiani perciò era molto difficile che gli austriaci venissero fino a qui però da un racconto si racconta che da questa fonte praticamente delle austriaci sono venuti a a salire cioè sono venuti a controllare la prima linea italiana morirono, vennero fucilati e vennero scusi colpiti da un colpi di praticamente dai nostri difensori italiani e morirono qua. Stessa sorte Macabra toccò anche un italiano che venì qui per prendere l'acqua uscendo dalla trincea praticamente cadde e morì. Da allora questa fonte è considerata la fonte della morte che finisce la nostra triade di leggente della valle del chiese e sulle altre cose. Abbiamo trovato altre 4-5 fontane un po' diverse sempre qui sempre sorgenti però a noi interessavano queste tre per il momento poi ne faremo delle altre spero che vi siano piaciute. a noi queste piccole notizie qua se ne avete e ce le volete dire le prendiamo molto volentieri come oggi ci sono i due cagnolini dell'agritour e adesso noi andremo a fare altre storie qua nel territorio. Comunque grazie per averci seguito come al solito e alle prossime! Grazie per aver guardato il video! Grazie per aver guardato il video! Grazie per aver guardato il video!